ed eccoci qua come promesso a parlare di soffitto e pavimento allora se volete fare questi due pezzi spassionato consiglio fatelo prima di entrarci a vivere oppure non fatelo mai più allora il pavimento allora se avete il riscaldamento a pavimento non so quanto ma magari qualcuno che ce l'ha può raccontarcelo meglio non so quanto si possa giocare se avete riscaldamento normale allora sì qualcosina si può fare il mio consiglio è sempre come un grano salis cioè non esagerare bello bellissimo un pavimento flottante però si può anche fare un pavimento semi flottante banalmente con uno strato di poliuretano o poliestere che che vada a creare quel piccolo strato di assorbimento ci sono anche come dicevo dei tappetini isolanti nel primo video nel secondo video dedicato all'acustica dei tappetini isolanti il poliuretano espanso 120 kg al metro cubo se non erro anche di più e occupano due centimetri poi sopra ci si mette possibilmente il perché va benissimo anche laminato ragazzi non è che però ecco appunto si mette perché laminato quello che volete il vinilico è e abbiamo un pavimento assorbente ovvio lavoro questo da fare prima di entrare perché poi dopo non lo fate più a meno che sia una stanzetta solo dedicata all'audio e allora spostate tutto fuori e riportate tutto dentro ma quello sono a fare i vostri perché è una saletta iper dedicata in uno spazio living pensateci di riempirlo di tappeti non hanno una grande efficacia bisogna dirlo qualcosina fanno però non sono risolventi ecco diciamolo tranquillamente sono esteticamente gradevoli apprezzati da tutte le mogli a parte quelle molto allergiche e però ecco sappiate che il pavimento è il territorio più fragile di quello che è la casa nel trattamento acustico domiciliare la parte più difficile volendo si può mettere anche la moquette però appunto della moquette su pavimento duro ha esattamente la stessa quantità di assorbimento di un tappeto quasi zero forse il tappeto ne ha un finino di più invece che 0,01 e 0,02 detto questo appunto l'altro grande problema è quel paretone enorme spesso non sfruttato che è il soffitto anche qua se siete già dentro non fatelo perché comunque per l'amore di dio si ottiene il mondo dal soffitto il mondo non posso negarlo però non posso negare che la situazione si tende molto più che una corda di violino detto questo appunto come trattarlo il mio consiglio è vivere pacifici si fa un bel con sotto soffitto non pesantissimo lana di vetro lana di roccia e chi si è visto si è visto riesco a lavorare comunque praticamente a gamma intera perché comunque una superficie enorme che quindi riesce a guantare gamma bassa gamma media gamma alta tutto quanto e motivo per cui è una parete fantastica il soffitto come risultato per raggiungere questo risultato se lo fate prima di entrarci a vivere siete tranquilli se lo fate ne mentre io vi ho avvisato mettiamola così perché poi dopo inizia il calvario terrorismo psicologico sul soffitto però tuttavia se siete in casa già in casa prima come assorbitore per gli punti di prima riflessione avevo parlato anche del poliuretano sì ma meglio polietilene perché del poliuretano no polietilene materiale plastico antiacaro bianco molto riflettente ragazzi cioè le vostre mogli non si accorgeranno ovvio che non è come fare una controsoffittatura però se lo prendete un po spesso 8 centimetri anche più pannelli e intanto mille chiodi per la sua materiale abbastanza leggero facile da applicare facile da tagliare tutto non riesce ottenere la quantità di assorbimento che potresti ottenere facendo un controsoffitto però il risultato porca bestia se bello e poi dopo si riesce a ottenere comunque un soffitto nascosto po meno nascosto rispetto alla controsoffittatura classica però comunque molto molto luminoso perché spesso la richiesta è di non perdere luminosità puoi fare ma voglio la stanza sempre luminosa il bianco riflettente bianco vi serve il polietilene a meno che lo lasciate incurato o mal aperto e allora magari dopo 20 anni qualche macchia gialla c'è però appunto in casa dura nove anni almeno non posso garantire di più perché non sono arrivato di più però appunto dura molto di più sto scherzando ovviamente nove anni sono niente per il polietilene e quindi appunto si riesce a ottenere comunque qualcosa di comunque pregevole a livello acustico esteticamente praticamente quasi completamente nascosto il vantaggio quale è che basta da colla una scala il riuscita incollare tranquillamente poi non viene giù a meno che ha usato una colla scadente però allora esistono le colle cioè basta chiedere bisogna evitare le colle alcune tipologie di colle che però non so quali sono non sono un costruttore quindi chiedete come ho chiesto io chiedete e viva verrà risposto da chi le colle le vende le usa e le fa usare e niente queste due superfici come dicevo sono le più interessanti si può fare tanto cioè se prima di entrare si può fare tantissimo soltanti si può fare agganciata anche a soffitto una membrana il mondo il mondo veramente ma proprio perché comunque è un'area vuota e quindi anche rispetto alle pareti dove si hanno dei limiti soprattutto il soffitto è un punto dove si ha si apre tante possibilità prima dopo vengono decurtate in una maniera esorbitante anche per il lavoro che c'è da fare tanto che comunque alcuni miei amici comunque mi hanno detto sai marco cos'è non lo faccio ma neanche per sogno lavoro col dsp mi tengo un po di problema dato a soffitto piuttosto ma vicino creo un più nierfeld come ascolto ma ascolto felice che poi dopo è la cosa più importante perché se ascoltiamo infelici non ascoltiamo nemmeno e niente più o meno l'acustica ambientale semplice semplificata ve l'ho raccontata spero di aver interessato un po tutti a fare qualcosina nel proprio ambiente soprattutto quando si pensa di essere insoddisfatti e allora si vuole incominciare a cambio amplificatore cambio dac cambio cavo cambio 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 però poi dopo sono tutti i cambi che lasciano abbastanza insoddisfatti ecco nel lungo periodo col trattamento investite perché non vi dico che con 300 euro fate la stanza neanche con mille dipende poi dopo dalla dimensione però ecco incominciare per trattare bene le prime riflessioni secondo me almeno mille partono solo per trattare le prime riflessioni volendo fare qualcosa anche per la gamma bassa sono altri mille volendo fare il soffitto altri mille se fate voi se no è un po di più quindi bene o male vedete che sono 2000 euro ecco da pensare di preventivare nella nell'acustica ambientale più o meno è quello che potendo anche fare piccoli pezzi per volta però appunto sono piccoli pezzi che utili utilissimi forse sono la migliore implementazione che si possa fare su un impianto d'ascolto ma soprattutto appunto vedete che un colpo alla butta e un colpo al cerchio con un po' di pannelli un po' di inventiva un po' di raffazzonamento bene o male abbiamo speso la quantità di soldi che si potrebbe spendere per cambiare amplificatore piuttosto che cavo piuttosto che dac piuttosto che giradischi fono testina eccetera eccetera però ecco appunto non ve lo nascondo non è un'operazione da da 100 euro trattare la stanza però è sicuramente quello che poi dopo è il cambio più duraturo che possiate fare a livello di impianto d'ascolto detto questo al prossimo video che non so cosa sarà ma probabilmente parlerò di cavi perché c'è stato un intervento interessante da parte di un ragazzo e allora mi sembra giusto parlare un po' anche in questo modo così semplice e colloquiale di cavi dai al prossimo video ciao ciao